Non ero molto convinta, sono scappata per un po' di tempo, lui ha perseverato, ha aspettato e poi ho capito che era la persona giusta per me. Sarà un matrimonio intimo e divertente quello di Nicole e Matteo. Abbiamo dovuto scegliere un posto che racchiudesse sia la chiesa che il ricevimento. Sarà un pranzo perché mi sposerò di mattina. Ho scelto un posto abbastanza romantico. Non abbiamo potuto invitare tutte le persone che avremmo voluto avere con noi perché purtroppo per riuscire a trovare un posto che avesse appunto le due cose insieme la chiesa non è una chiesa enorme, la sala di ricevimento non sarà enorme e quindi sarà intimo ma con gli amici più stretti per cercare di divertirci perché poi essere un po' pazzi è anche una peculiarità sia di me che del mio compagno. I testimoni come li hai scelti?